Questa mattina, come diceva Andrea, dall'inizio della mia pagina di lavoro ho sentito davvero una forte vicinanza con tutti gli esponenti di Agenda 2030. Abbiamo condiviso insieme un percorso, un processo, un metodo che parla di temi molto condivisibili, da appunto, come stavi parlando, di un'idea di sviluppo sostenibile, economico e sociale, da tutti i punti di Agenda 2030 che parlano dell'ambiente, che parlano della mobilità dolce, che parlano di una città più vivibile per le persone e per tutte le persone. Quindi davvero abbiamo condiviso dall'inizio, con grande anche empatia, un gruppo di lavoro che ha lavorato per questi quattro mesi perché da subito, come diceva Andrea, siamo partiti insieme e non ci sono mai stati tempennamenti e abbiamo condiviso un metodo, un metodo di ascolto, un metodo di lavoro con i tavoli, sui temi e un metodo anche di coalizione, di condivisione di coalizione. Quindi per me è un grande onore essere a servizio di questo gruppo, di questa coalizione e a servizio della città, quindi ci impegneremo al massimo, se avremo l'onore e l'onere, di amministrare la città con la stessa determinazione e metodo con cui abbiamo fatto questa campagna.